Sulla Virtus Piscinola questa questione la sta seguendo l'assessore Ferrante, è stato fatto questo bando su cui c'è un po' una diatribia interpretativa, cioè se la Virtus Piscinola può partecipare o meno. Chiaro che la nostra intenzione è quella di tutelare ovviamente la presistenza della Virtus Piscinola in quella sede, fermo restando che noi abbiamo la necessità di una manifestazione pubblica, questo ovviamente è un vincolo che noi abbiamo, quindi adesso gli uffici stanno facendo una valutazione insieme all'assessore e poi decideremo.